Come concepisce peraltro, nell'ottica della rappresentanza, quindi rispetto al tavolo, il ruolo evolutivo di una struttura come CNA in un contesto come quello della rete, per rete in questo caso parlo del combinato risposto, di internet in una società che cambia, in un ambito in cui se le strutture di rete come CNA non cambiano, semplicemente possono essere disintermediate? È proprio quello che abbiamo analizzato durante le tre ore, non è casuale. Il contesto appunto, bisogna fare un attimino per inciso, descrivere bene il contesto, la crisi della rappresentanza la stiamo percependo un po' tutti quanti, la crisi della rappresentanza in questo momento non riguarda soltanto la rappresentanza degli interessi, riguarda la rappresentanza politica, riguarda la rappresentanza in ogni sua forma sostanzialmente. Quello che noi leggiamo praticamente da questo connubio, digitale e rappresentanza, naturalmente è un'opportunità, è un'opportunità perché adesso, in questo momento, appunto per dirla come la dobbiamo dire durante anche la Maker Faire in un linguaggio giovanile, c'è bisogno di un reset, un totale reset della rappresentanza, rimettersi davanti allo specchio, riguardarsi allo specchio, capire cosa eravamo, come l'abbiamo fatto bene, cosa abbiamo sbagliato, dove vogliamo andare, soprattutto, e poi praticamente trovare gli nuovi strumenti per riuscire a partire. Un reset o un refresh? Entrambi, perché secondo me anche il reset va bene, secondo me anche non fa male, non fa male, esatto, refresh e reset praticamente. Allora adesso entro un po' più nel vivo perché appunto la prima dinamica, la prima domanda che ci eravamo posto era appunto proprio quella delle opportunità, quindi cosa, quale opportunità può cogliere la rappresentanza attraverso il digitale, no? Innanzitutto ci sono venute in mente delle keyword come velocità, come condivisione di competenze, cioè lo strumento nuovo mi mette subito a disposizione risorse che io prima non avevo, mi mette collegamenti a disposizione che sono molto più veloci, sono molto più fruibili. Quindi l'associazione, qualunque essa sia, perché appunto qua non parlavamo solo di CNA, parlavamo della rappresentanza, rappresentanza 2020, è perché è il nostro metodo, è il metodo di CNA Next praticamente, ascoltiamo prima, ci facciamo contaminare, per poi dopo vedere noi dove vogliamo andare. E quindi quando si parla di nuovo mercato, di nuovo territorio, faccio riferimento alle imprese, le nuove imprese, le nuove tipologie di imprenditori, faccio riferimento ai cluster praticamente, ai settori di riferimento, perché un artigiano che fa l'elettricista nel settore cartario ha tante esigenze in comune, ma qualcosa di diverso rispetto a quello che opera con i makers piuttosto che nel settore del marmo, quindi dobbiamo avere anche questa di capacità. La credibilità e la fiducia sicuramente, la crescita e lo sviluppo delle imprese e, per finire, un nuovo senso di appartenenza. Questa è la vera opportunità che abbiamo praticamente con l'utilizzo di nuovi strumenti digitali. Vado avanti con la seconda, praticamente che riguardava come, cioè di cosa ho bisogno per coglierle queste opportunità, e appunto come vedete è trasversale l'alfabetizzazione digitale di noi altri, guardandoci appunto allo specchio, facendo quell'esercizio che dicevamo prima, è la prima imprescindibile cosa che dobbiamo fare. Quindi, partendo dall'alfabetizzazione digitale, scusatemi, praticamente che già anche abbiamo provato a fare, ricordo gli accordi con Google, gli esperimenti che abbiamo fatto in giro per l'Italia, praticamente ci porta a fare una formazione per creare maggiori competenze, un nuovo tipo di imprenditore che mi riesce poi a digitalizzare processi e procedure, perché se non lo formo prima non lo alfabetizzo, non posso pretendere che da domani praticamente mi parte subito con nuove forme di processo, di produzione, di innovazione di processo. Quindi il know-how che deve avere anche però, colui che fa il mestiere della rappresentanza, deve essere anche quello di riuscire a coniugare tutti questi aspetti e avere a che fare con un grossissimo paradosso, customizzazione versus standardizzazione. Ho bisogno di processi con un piccolo, lieve grado di standardizzazione, in maniera tale che nei vari territori, nelle varie CNA piuttosto che CGL, piuttosto che partiti politici, cioè io devo intercettare la domanda, però devo anche cucirgli un vestitino ad osso, deve essere questa la nostra capacità e siamo artigiani, ricordiamo, ce lo dobbiamo saperlo fare. Passo velocemente alla terza, quali sono i rischi che si prospettano se non comprendo una portata di questo cambiamento, oltre alla morte, ad essere degli zombie praticamente, diciamola invece un pochettino, un po' più con termini consoni. La simmetria informativa, perché non arrivano le informazioni, non arrivano le informazioni nella base e nel vertice, sia in discesa che in salita. La segmentazione, soprattutto quello che può succedere, appunto come dice, chi mi ha preceduto ha fatto degli esempi, il maker non è un marziano, però se io non riesco a far parlare il maker con l'artigiano tradizionale, è là sì che la faccio la segmentazione, non è solo generazionale, è anche di tipo tecnico, quindi c'è un doppio binario di segmentazione, qui devo stare attento. Il conflitto intero associativo, perché è una conseguenza inevitabile, la lontananza quindi dai processi decisionali e l'incapacità di cogliere le nuove opportunità del mercato, in sostanza una disintermediazione, praticamente non riesco più a rappresentare. Cosa serve? Secondo noi, poche e abbiamo cercato di farle chiare praticamente. Numero uno, siamo imprenditori, voglio il contesto, non voglio altro della politica, createmi il contesto dove dopo io faccio il mio mestiere, ci metto la faccia, ci metto il rischio, ci metto l'impresa, però il contesto non ce l'abbiamo, perché se sto chiedendo certezza delle regole, se sto chiedendo semplificazione, se sto chiedendo di abbattere il digital divide, lo stiamo ancora chiedendo praticamente, se sto chiedendo di ridurre i centri di spesa di costo di decisione, vuol dire che il contesto non ce l'ho, ma come mi fanno a fare i maker? In che contesto si muovono? Forse ci hanno più fortuna di noi, perché appunto qualche regola manca loro, possono smanettare. La trasparenza e la meritocrazia è un'altra cosa imprescindibile, che non si può non chiedere, la valorizzazione della cultura di impresa, ritorniamo alle scuole, non vedo più Fusacchia, poi magari cerco di parlarci, e poi soprattutto una cosa che forse ieri eravamo avanti e ci è arrivato un uccellino, scusate se sono andato avanti con i tempi, ma questa è veramente importante, una legge sulla rappresentanza, se dobbiamo resettarla o fare un refresh, ci vuole un nuovo recinto in cui ci siano ben chiare le regole del gioco, ci riguardiamo allo specchio? Come sono le regole della rappresentanza, scritte e non scritte in Italia? Io faccio una domanda agli istituzioni, quindi ripartiamo tutti quanti dalla stessa base, perché oggi, la chiudo così con una vena un po' ironica, non mi risulta che partiamo tutti dalla stessa base, in termini di come si fanno le tessere, di come contano, di come sono distribuite le risorse. Quindi se riprendiamo lo slogan della libertà e partecipazione della fantastica canzone di Gabber, diciamo che forse la partecipazione è la rappresentanza del futuro. Scusate, sono tutto.